Finalmente questo sogno di riuscire a vincere un campionato mondiale individuale è arrivato in questa bellissima giornata qua a Villar. Guardando com'era il tempo ieri non prometteva niente di bello, invece oggi è stata veramente una giornata fantastica, soprattutto per me perché sono riuscito a vincere con veramente tanta cattiveria. Ogni salita rilanciavo e ogni discesa cercavo di guadagnare il più possibile per distanziare il mio diretto avversario Michele Boscacci. Avercelo dietro non è mai positivo perché so che le sue zampate finali vengono fuori. Ho stretto i denti fino all'ultimo e al traguardo veramente me la sono goduta, goduta tanto. Quindi ora sono campione del mondo! La course è stata stata in modo quasi perfetto come ho esperato, ho potuto prendere le commande da l'inizio, una piccola avanza sulla prima monta e poi la quarta si è crezata inizia. Non c'è nessun problema tecnico o materiale, tutto si è bene passato, le sensazioni era e l'envi è stata molto... l'envi è stata extrema e il risultato è una prima medaile d'or e un primo tito di championne del mondo. Questo è stato il mio obiettivo, quindi è veramente una grande soddisfazione. Grazie. Grazie.